Davide Martinelli si impone nella prima tappa del Tour di Polonia 2016. Il portacolori della Ethics Quickstep riesce a trovare il secondo successo stagionale sul traguardo di Varsavia, riuscendo a beffare il gruppo con un attacco da grande finisseur negli ultimi 500 metri. Il Bresciano riesce a precedere di pochissimo il gruppo lanciato allo sprint con Fernando Gaviria, che completa una bella doppietta per la formazione belga, grande protagonista anche con Zdenek Stibart, quarto, dopo essere stato uno degli artefici dell'azione decisiva. Grazie a questa vittoria il neoprofessionista Martinelli si prende anche la maglia di leader della corsa. Grazie a tutti!